Eccoci qua, www.morizopoli.it, Enedicola, il settimanale Mondo Padano, eccolo qua, anche in digitale, come dico sempre, su www.mondopadano.it, quindi si può seguire anche comodamente dal proprio smartphone, dal proprio pc. Nell'inserto Economia e Lavoro, nuovo articolo di Giuse Biondelli, educatore e consulente finanziario, nella rubrica Risparmio e Finanza, che ci parla se nel 2023 è un contrassegnato dal protagonismo delle banche centrali per contenere l'inflazione. La fiammata si sta spegnendo, ora che i prezzi scendono, i mercati si attendono una riduzione dei tassi. Un articolo molto ben fatto che ci porta a riflettere sulla fine del 2023 e un inizio del 2024. La frase che termina l'articolo ci induce ancora a un'ulteriore riflessione, sempre per l'aspetto dell'educazione finanziaria, che ci dice che il rischio nasce dal non sapere cosa stai facendo. Una frase di Warren Buffett. Direi che non termino questo piccolo video in diretta, invitandovi alla lettura di questi articoli su settimanale Mondo Padano. In digitale poi trovate anche tutti gli articoli pubblicati dal 2015 fino ai giorni nostri. Direi una buona lettura e una buona educazione finanziaria a tutti. Alla prossima!